Nel corso della notte, ad Acerra, Caivano, Napoli, San Gimignano, Benevento, Cosenza e Siracusa, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti complessivamente di 26 indagati, gravemente indiziati a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alle istorsioni gravate dal metodo mafioso, nonché alla commissione di reati in materia di armi contro il patrimonio e la persona. Le indagini, svolte dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e coordinate dalla DDA Partenopea, hanno posto sotto la lente gli assetti della criminalità organizzata attivi nel territorio del Comune di Acerra e gli interessi degli stessi nutriti nel settore legato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo, ovvero in quello dei reati contro il patrimonio. Due le formazioni criminali emerse nel corso delle indagini, il gruppo criminale di Buono, i Marcianiselli, ed il gruppo avverso dei Lombardi, entrambi, come anticipato, operanti nel grande centro campano. Il provvedimento cautelare, seguito agli uomini dell'arma, giunge all'esito di un'articolata attività di indagine che, nel mettere in evidenza l'operatività criminale dei gruppi di Buono e Lombardi, ha permesso anche di monitorare le dinamiche organizzative di tre distinte piazze di spaccio, attivate nel Comune di Acerra, nei quartieri popolari Ais Snei, Parco dei Napoletani e Piazzale dei Martiri. Le indagini hanno consentito anche di ricostruire l'omicidio, avvenuto in Acerra il 19 settembre 2015, di un pregiudicato del luogo, all'epoca dei fatti, 57enne, riconducibile al gruppo criminale Lombardi, ad opera di due soggetti affiliati al gruppo avverso dei Di Buono, dietro la regia, quale mandante, del vertice del clan Di Buono. Cruente le modalità di esecuzione, i due autori materiali, avvicinatisi alla vittima in sella ad uno scooter, esplodevano all'indirizzo della vittima un colpo alla nuca, approfittando del fatto che la stessa si fosse in quel momento seduta su una panchina nel pieno centro cittadino. L'episodio consentiva di registrare per la prima volta una frizione tra i due gruppi criminali, inizialmente stretti da vincoli di collaborazione.